Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati oppure benvenuti, che sia il vostro primo interattivo o uno dei tanti. Io vi ringrazio per seguirmi, seguire il canale, lasciare i vostri commenti, contattarmi via mail, lasciare le vostre osservazioni e mi scuso con quanti ritengono che io mi dilunghi troppo in chiacchiere e che nei miei interattivi non si giunga mai al punto o al risponso. Però d'altronde io ritengo che per correttezza è giusto che se io vedo, intravedo o mi viene in mente qualcosa dalle carte che ho davanti e condivida con voi il mio pensiero, anche perché se state seguendo un interattivo forse è proprio per quel motivo, per ricevere delle informazioni, delle gritte, degli spunti di riflessione. A volte magari trattandosi di interattivi generali non arriva proprio la risposta completa, però da nulla potrebbe venire fuori un germe di riflessione utile anche ad altre situazioni della vostra vita, non lo so. C'è chi magari ha fretta e in questa epoca si adegua al fatto che dobbiamo concludere, dobbiamo correre, dobbiamo essere produttivi. Ecco, questo non è il canale adatto, qui non siamo produttivi, qui siamo riflessivi. Il riflesso può andare anche all'infinito. Lo volevo così premettere perché non credo che cambierò modalità. Cioè, io dialogo con voi ed è un piacere dialogare con voi, anche se in fondo sembra una sorta di monologo nel mezzo registro, però nei vostri commenti diventa una polifonia. Vi ringrazio. Oggi andiamo a chiedere alle carte se lui o lei lasceranno il proprio partner ufficiale per noi, se scederanno noi. E la variante rossa, gialla, blu, non posso parlare troppo forte perché è molto tardi, però gli interattivi sono tanti, quindi voglio cercare di farne alcuni anche la notte. E concentratevi sulla situazione, sulla persona, noi andiamo ad analizzare queste tre varianti. Quindi direi che se avete bisogno di più tempo potete stoppare il video e concentrarvi meglio. E per quanti non vogliono sentire le chiacchiere potete schippare e arrivare alla conclusione, anche se secondo me rischiate di perdere magari qualcosa di interessante. Per la variante rossa, questa persona lascerà il partner per noi? Allora, molto probabilmente ci sarà una chiusura. Essendo questa la prima carta, la chiusura la dobbiamo leggere adesso con una sorta di punto interrogativo. Cioè, la prima interpretazione che vorrebbe da dire si lascerà il partner e verrà da voi. Però abbiamo una montagna alta da scalare, abbiamo comunque una roccaforte e potrebbe anche trattarsi di una chiusura nei vostri confronti e quindi ritirarsi nella propria roccaforte, isolarsi, perché comunque si tratterebbe di un ambiente a lui non favorevole, neanche amato, ma nel quale probabilmente per necessità e per legami e per vincoli molto forti di sangue, qui si parla proprio di figli, di suoceri, cioè di parentela allargata, potrebbe essere costretto a doversi ritirare qui, perché questa carta parla anche di rovina. Quindi, una prima lettura che noi ne possiamo dare è per ora un 50%, sebbene, secondo me, parli più di questa rottura nei vostri confronti. Però andiamo adesso a integrare, analizzare con le altre carte, perché così giustamente è un messaggio per il momento neutro. Che però parla di una chiusura, quindi una certezza c'è. La situazione che adesso, un po' qui, un po' lì, non continuerà assolutamente. E comunque non sarà un andare, tornare, chiudere, riaprire, no. Qui se c'è chiusura, con chiunque sia, voi o lei, voi o lui, a seconda che siate uomo o donna, sarà una chiusura netta, cioè non ci sarà un ripensamento poi. Questo ve lo posso dire. E andiamo a vedere che cosa sta a finire per quanto riguarda questa prima variante. Allora, sicuramente ha a che fare con la passione. E ci sarà un grande sconvolgimento. Quindi, sì, si conferma la chiusura di un rapporto amoroso. E il fatto che si parli di passione, molto probabilmente stiamo parlando nuovamente del rapporto con l'amante, quindi con voi. Lui comunque ha messo alle strette. Quindi, poi vi chiedo delle conferme nei commenti. Questa persona, probabilmente, ha fatto già un tentativo di allontanarsi dalla famiglia. Però è stato costretto a tornare, o comunque sia, a dei vincoli troppo, tipo comunione dei beni, oppure la casa... Non lo so, delle cose materiali. In questo caso non parlo dei figli, parlo proprio delle cose materiali, dei soldi, delle cose concrete. C'è sicuramente un qualcosa di molto forte che lo vincola. Non si può assolutamente staccare in questo momento. Però è una persona che prova nei vostri confronti profonda passione. Quello sì, e non è un sentimento che morirà neppure nel momento in cui sceglierà di interrompere con voi per riprendere, o meglio, per confinarsi, come la prima carta suggerisce, in questa sorta di prigione, lontano da tutti e da tutto, alla quale non è neanche facile giungere. Quindi pur volendo, se anche uno volesse raggiungerlo, cioè fare anche lo sforzo di andare incontro alle sue necessità, ecco la condizione in cui lui si va a rinchiudere, in cui lei si va a rinchiudere, è una condizione inaccessibile agli altri. Però va detto anche che si tratterà di un cambiamento positivo. Voi direte in che senso? Io credo, dalle carte che sono uscite, che questa situazione in medico in realtà sia stata già elaborata anche da voi, cioè voi avete la speranza che lui scelga voi, perché comunque il sentimento di base è ricambiato ed è forte. Probabilmente si tratta anche di un rapporto tra amanti di lunga data, non è una questione degli ultimi mesi, non vi siete conosciuti da poco, siete rodati tra di voi. E probabilmente questa situazione anche di incertezza aveva iniziato a creare un po' di stanchezza, di malessere anche all'interno della vostra coppia. Quindi c'è qualcosa che già da tempo, o a causa di questa impossibilità di potervi scegliere, aveva già creato dei malesseri tra di voi. Voi quindi avete già da tempo elaborato la possibilità di chiudere, in realtà di chiudere voi. Non l'avete forzato ultimamente troppo nella scelta, perché avete capito che in realtà lui in questo momento una scelta in vostro favore non la può fare e non la farà. Però vi trovate in una posizione di comando, cioè per quanto riguarda voi e per il vostro futuro non ci sono energie brutte, cioè per voi è un punto di ripartenza, ora, verso un appagamento vostro, verso il dedicarvi nuovamente a voi stessi, perché voi avete perso molta energia comunque con questa persona. È come se voi in parte vi foste messi l'anima in pace, cioè sapete che rapporto c'è. Probabilmente credete di incontrarvi nuovamente, io parlo sempre di vite. Chi non vuole credere in ciò ovviamente non tenga conto di quello che io dico quando mi riferisco alle vite passate. Però qui tra le anime il legame c'è. Però ho un legame che ha come un blocco proprio non riesce ad andare oltre alcune cose in questa esistenza. È come se c'è proprio una catena karmica che vi tiene vicini ma a una certa distanza, vicini ma non troppo. Comunque a un certo punto quando la vicinanza è più reale, più stretta, le catene tirano. Magari anche voi avete qualcosa che in parte vi vincola. Forse siete meno vincolati da lui ma anche voi avete delle cose a cui non rinuncereste mai. Né per lui né per qualsiasi altro uomo o a qualsiasi altra donna. Siete delle persone molto forti e avete anche una buona possibilità di riuscita, soprattutto nell'ambito della carriera. Quindi se non avete già una posizione molto importante nell'ambito della carriera comunque farete un salto di qualità. Qui c'è proprio la concretezza. C'è l'agio e c'è anche una sorta di calma dovuta a questa elaborazione interiore della situazione. Cioè voi desiderate molto che lui scelga voi ma non lo desiderate con nevrosi né in maniera folle né siete lì a pugnalarvi né lo farete se lui non potrà o non vorrà scegliervi. E sì è confermato comunque voi siete delle persone creative. Siete delle persone, scusatemi avevo sentito dei rumori nell'altra stanza, spero di non disturbare. Siete delle persone creative e siete comunque in un momento di... È come dire se voi adesso steste raccogliendo i frutti nella vostra vita, è vita scusatemi in tutti gli altri campi quindi non tanto in quello sentimentale perché c'è ancora questa situazione in vinico. È come se voi steste raccogliendo i frutti di tutto quello che avete fatto in passato, di tutto l'impegno che avete impiegato sia nell'attività del lavoro che nelle relazioni con gli altri. Si conferma comunque da questa carta la vostra profonda creatività e anche la vostra profonda... la vostra essenza. Ecco la ricchezza, la bellezza della vostra anima. E si conferma anche quella calma interiore che avete comunque raggiunto. Probabilmente avete anche fatto un percorso personale. Non lo so se avete praticato yoga, se avete praticato reiki, avete letto particolari maestri orientali o non orientali. Comunque non siete digiune di questi argomenti. E anche la vostra anima è un'anima molto antica e tutte le prove che ha superato anche nelle vite passate, tutti i talenti che ha raccolto, diciamo che in questa vita assieme, tutti assieme daranno frutto. Perché a volte magari abbiamo tanti talenti del passato però per karma non è destino che possiamo attingere ad essi in questa esistenza. Ecco no, voi avete tutte le porte aperte. Vediamo che farà questa persona. La carta ci conferma comunque una situazione in cui sarà costretto a tornare all'ordine. Sarà comunque costretto a cedere. Ecco, a cedere alle richieste, io credo a questo punto, del partner ufficiale. Forse la vostra storia, io dico forse perché secondo me è un sì. Però anche qui aspetto la vostra conferma. Questa storia non è, diciamo, aliena al partner ufficiale. Probabilmente questa persona è stata messa dinanzi ad una scelta, però non ad una scelta, semplicemente alla scelta obbligata di tornare. Se fino adesso è stato tollerato il suo comportamento, da adesso in poi quel comportamento non è tollerato sotto la minaccia, quindi di ripercussioni, magari con avvocati, comunque con casini. Sotto questa minaccia lui ha dovuto fare dietro fronte. Ha dovuto fare dietro fronte perché io credo che non sia, non solo dal punto di vista del carattere, lui non riesce a svincolarsi, ma come abbiamo detto prima, ci sono proprio dei condizionamenti. Condizionamenti, magari lavorano assieme, hanno una ditta insieme, cioè ci sono degli interessi molto più profondi del rapporto di coppia in questo caso. Anzi, quello in realtà è un'abitudine e probabilmente non hanno neanche più grandi effusioni o scambi queste due persone, ma la donna che ha al suo fianco, il partner che ha al suo fianco, è una persona molto forte e può pretendere di imporgli un tipo di comportamento. Il fatto di dover comunque tagliare con le altre storie. Purtroppo sì, ragazze, io non credo che questa persona chiuderà. Ci sarà tristezza? Beh, probabilmente, io più che tristezza da parte vostra, ci sarà malinconia, anche un po' rimpianto e forse in alcuni momenti penserete di aver perso addirittura tempo con questa persona. Però poi in realtà in cuor vostro sapete che non è così, perché il legame è stato sincero. E ripeto pure una cosa, quello che abbiamo detto prima, io credo che nell'aria già questa sensazione voi l'abbiate avuta nel passato, cioè voi avevate già usciutato che la cosa sarebbe finita così e che si sarebbe chiusa. E nell'ultimo periodo, perché se non c'è stata chiusura ci sarà comunque a breve, nell'ultimo periodo o in questo periodo siete stati molto meno, voi però parlo, è proprio di voi, molto meno presi, molto meno complici anche nelle cose che avete fatto assieme. È come se una sorta di distacco, di freddezza comunque nell'ultimo periodo fosse subentrata ai normali comportamenti che avete sempre avuto nel passato. E comunque si conferma il fatto che siete una donna forte per quanto riguarda voi. Siete una donna guerrita, voi avete fatto del vostro per dargli la possibilità di soppesare il vostro valore, però non accettate più nel compromesso e in realtà non accettate neanche il fatto che lui non vi abbia scelto. E non lo giustificate per questo, ciò non vuol dire che da adesso in poi negherete i sentimenti provati, sebbene il sentimento di poter aver perso tempo potrebbe sorgere in voi in alcuni momenti, però non negherete mai il sentimento che c'è stato nel momento in cui c'è stato. In parte, sebbene con molta, diciamo, calma, pacatezza, voi continuate a conservare per lui affetto, però siete risolute perché non ce la fate più, voi volete ricominciare e fate bene, perché comunque dalla stesura lui non lascerà il partner, la partner. Eh sì, guardate la carta della perplessità di lui, di lui che potrebbe andare avanti in questo gioco di incertezza all'infinito, con questo infinito tra le mani. Lui la sua ombra, lui e i suoi desideri, quello che deve, quello che vorrebbe queste monete all'infinito, che vedete, e confermo anche il fatto che il legame, qualcosa che c'è, se lo tiene di materiale. Sicuramente, ragazzi, non c'è legame fisico, non c'è legame dei sentimenti con la casa, no, però c'è un vincolo, c'è questo vincolo, fosse anche la sua lezione karmica, qualcosa che deve imparare, non lo so, ma sarà costretto a stare a casa, comunque a tornare. E lui, se non, se potesse dipendere da lui, comunque, anche se fosse libero, c'è qualcosa dentro di lui che non lo porterebbe a scegliere. Probabilmente non vi sceglierebbe neppure se non ci fossero questi vincoli, lui continuerebbe all'infinito a giocare tra le due parti, ma non per cattiveria, perché non riesce e non sa fare altrimenti. Ecco perché credo sia comunque una sua prova karmica. Vediamo un po', chiudiamo con la rovina comunque. Quindi la chiusura del rapporto, che l'abbiamo già detto nella prima carta, ci parlava di chiusura e chiusura viene confermata, chiusura anche in malo modo. Può essere anche che avrete dei contrasti, degli scontri, perché sebbene il sentimento d'affetto possa anche rimanere nel tempo, perché siete una persona che è cresciuta, che è maturata, che ha fatto comunque un percorso, però sul momento passatevi il termine vi rode, perché comunque sia non vi meritate questo comportamento e andate a rivedere anche il valore di quest'uomo alla luce della sua scelta, che non è una scelta poi in realtà. E quindi potrebbe anche chiudersi in malo modo, sebbene poi, ripeto, in cuor vostro non è che rimarrà odio per lui, assolutamente. Però sì, confermo per questa prima stesura il fatto che lui non lascerà il partner. Non so, mi dovete far sapere voi, perché questa persona, cioè voi che comparite dalla lettura, siete comunque una persona matura che si era stancata di certi giochetti e di certe situazioni. Probabilmente potrebbe essere una liberazione, perché pure dalla carta delle stelle voi ricomincerete meglio di prima. Però è ovvio, se avete investito i vostri sentimenti, non è che siamo felici di questa cosa. Variante gialla. Vediamo un po'. Abbiamo una felicità. Questa seconda stesura già inizia con un tono tutto diverso. Allora, qui c'è comunque una persona che è in atto di camminare. Addirittura alza la gonna e con leggerezza, vedete, cammina sull'acqua, a pelo d'acqua. È come una persona ormai sicura che si può permettere anche di camminare piano alla luce del giorno. Quindi io immagino che possa essere lui che finalmente o lei, il vostro comunque compagno clandestino, che finalmente può alla luce del giorno attraversare e percorrere le strade del suo sentimento, di quest'acqua. E lo fa sorridendo e lo fa senza fretta, perché si vede che questa persona forse si è separata, divorziata o messo le cose in chiaro, non ha più nulla da nascondere e può venire da voi in tranquillità. Questa seconda lettura, sesura, scusatemi, questa seconda variante già inizia con tutta un'altra energia rispetto alla prima. Andiamo ad approfondire. E c'è una persona che aspetta, una persona che ha potere, una persona che comunque, come nella carta uscita prima, non ha fretta. Ecco, è come se entrambi, sia lui che voi, sia lei che voi, è come se questo incontro assieme lo avete veramente costruito passo dopo passo. Ecco, anche il significato della prima carta. Forse avete ragionato assieme su come fare per liberarsi dall'altra persona, in senso buono ovviamente, come fare per avvicinarvi, come fare per ricominciare insieme, come fare per poter vivere alla luce del giorno il vostro sentimento. Voi siete in una posizione di potere rispetto all'altra persona, però è una sorta di potere illuminato. E voi avete atteso tanto, anche in questa carta dove si vede la seconda figura avere un'età maggiore. Io credo che voi abbiate atteso veramente tanto questa svolta, che da questa sesura per il momento sembra essere comunque confermata. Bellissimo. Guardate, se non è ancora successo vi avvicino la carta, ve la faccio vedere meglio. La carta parla di un successo che è vicino. Vedete quanto fuoco, quanta passione e come anche lei finalmente è sul trono. Ora vi faccio vedere una cosa. Lei c'è il vostro partner che sia uomo o donna. Prima in avvicinamento, voi sul vostro trono, questo successo vicino e finalmente anche l'altra persona che si trova seduta su un trono e guardate nella direzione, uno verso l'altro. Vi guardate, tutte e due con lo scettro e addirittura l'altra persona nella terza carta, come se questo cambiamento abbia richiesto veramente tanti sacrifici, alza lo scettro un po' più in alto quasi a dire ecco mi vedi ce l'ho fatta, ti ho raggiunto. E l'altro invece tiene lo scettro in maniera molto calma in mano, come a dire ma io ti aspettavo, lo sapevo che ce l'avresti fatta. Bellissima, mi piace molto questa seconda variante, quella di prima mi dispiace perché purtroppo l'esito è un po' tosto. E abbiamo l'imperatore, sì si conferma. Io vi confermo per il momento da queste carte questo, c'è un partner in attesa e un altro che andrà verso di lui. E comunque c'è la riuscita, c'è la riuscita a tutti i livelli, tutte queste carte danno comunque delle figure importanti, sono tutti imperatori più o meno, anche se nell'altra carta non c'è scritto l'imperatore, non è proprio l'arcano, ma la posizione è quella, è regale. Ed è regale anche la vostra storia, cioè è un rapporto che ha veramente valore, per il quale valsa la pena lottare, ma soprattutto attendere. Perché le carte raccontano di una storia lunga, di un'attesa lunga, probabilmente ancora dovrete attendere un po', ma la situazione andrà in porto. C'è il perfezionamento, sì, forse in questa vostra attesa quello che deve semplicemente accadere è, avete visto la prima carta, no? Dove con i piedi lentamente si attraversava l'acqua, il sentimento, ecco, forse c'è ancora qualche tassello da mettere in ordine. Un ultimo passo da fare prima di raggiungere il traguardo, la vittoria. Però abbiate fede, perché è solo una questione di tempo. Ecco, in questa seconda variante la risposta è sì, la modalità è il tempo, è solo una questione di tempo. Ma avverrà. Sì, lui sta osservando, ma anche voi state osservando, ma lui, cioè la persona che voi attendete in prima persona, sicuramente sta osservando e sta aspettando il momento giusto per avviarsi e chiudere l'ultimo capitolo della storia da cui viene, per iniziarne una nuova con voi. Comunque, vi confermo sempre che tutti i personaggi di questa stesura sono personaggi con posture calme e composte, cioè loro sanno che riusciranno, l'obiettivo è chiaro. Questo è importante perché c'è sintonia nella coppia, c'è affinità e le cose andranno nel verso migliore proprio per questo. Questo è il grande potere di questa coppia. È che loro hanno capito il valore della loro unione e sono pronti ad aspettare. E' una cosa meravigliosa perché io sento che in questa coppia non c'è stanchezza. Se anche non ci dovesse essere questa chiusura con il partner ufficiale, la loro storia non finirebbe lo stesso. Questo ve lo garantisco. Il partner ufficiale è stato una sorta di errore di percorso, cioè doveva accadere perché carmicamente c'erano debiti e crediti tra quelle persone. E forse è stata una prova anche per testare il vostro affetto, ma tra di voi c'è un legame fortissimo. Vedete? Ma che meraviglia, cioè no, queste ve le devo far vedere meglio, scusatemi se c'è quello che abbiamo detto. Guardate come è confermato dalle carte. C'era il perfezionamento uscito prima, nell'attesa, lui che si alza dallo stare a terra ad attendere e si mette ad osservare, a sorvegliare e poi finalmente la partenza del viaggio. In pompa magna, sul cavallo, in modo trionfale, sempre questi scettri, queste spade nella mano. No, è bellissimo ragazzi, vi confermo, qui c'è, 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 qui viene da voi, viene da voi perché è sempre stato legato a voi, temperanza. Ecco ragazzi, ulteriore conferma. Conferma, oramai se guardate questi video, non tanto i miei, ma anche quelli delle altre persone che leggono i tarocchi, o quantomeno avete un libro di tarocchi o cercate su Google, la temperanza è sempre una carta di tempo piuttosto lungo, non lunghissimo, ma vuol dire che il cambiamento c'è, sarà positivo, ma non sarà immediato. Quindi abbiate solamente pazienza, è questa la questione, in questa stesura dovete avere pazienza per la stesura di questa seconda variante. Però è tutto un trionfo, dominio. Ce la farete, ve lo confermo. Sarà, sarà veramente, sarà un trionfo, sarà una grande gioia, ma sarà pagante. Cioè voi alla fine, dopo tutti i sacrifici, sarete veramente appagati e felici di aver fatto quello che avete fatto e di stare assieme. Vi auguro veramente tanta felicità, questa seconda variante è bellissima. Veramente bella, 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 bella. Vediamo adesso la terza cosa accadrà, se ci sarà questo cambiamento. Eccoci qua, con la nostra amata carta, che esce molto spesso. Si vede che le mie mani la amano, la pescano facilmente. Qui abbiamo una persona che può benissimo venire da voi. Non è vincolata a nulla, è libera di scegliere. Come spiego sempre, se voi la guardate, l'ostacolo davanti è piccolo, alle ali si può sollevare, una carta leggera, qualcosa in mano. Può essere un dono per voi, o può essere l'attaccamento che lo tiene fermo nella situazione in cui si trova. Questa è una grande domanda, perché ora andremo a disambiguare il significato di questa carta uscita per prima con quelle successive. Comunque qui questa persona è titubbante. Ed è titubbante non per una questione di sentimenti, però posso dirvi una cosa. Di tutte e tre le varianti, questa è la persona che io sento forse con meno sentimento. Non offendetevi, non nei vostri confronti. Questo non ha grande sentimento nei confronti del partner di partenza. Lo ha per voi di più, però non è che questo grande uomo appassionato, cioè interiormente questo è un po' attaccato. Non è che si sta a fare pure due conti. Cioè, non è uno che sceglie anche un po' in base alla convenienza. Ve lo domando perché da questa carta la cosa traspare. Quindi è importante pure per capire cosa farà. Io abbiamo una persona in attesa. Amore e l'armonia, l'amore e l'armonia che sono comunque presenti. Ora, questo personaggio si differenzia molto per elemento e per età, per posizione. Un po' per il contesto delle carte e anche per il significato delle domande che questi tarocchi carmici pongono. Qui c'è una persona in attesa. Io non posso sovrapporre questa con la prima carta. Cioè, non si tratta della stessa persona. Quindi non la possiamo leggere, anche se potrebbe sembrare bello come l'armonia e l'amore che sono presenti. No, questi sono presenti in voi. Cioè, in questa coppia la persona che ama siete voi, la persona che porta armonia siete voi, la persona che dà ordine alle situazioni siete voi, la persona che dà fiducia, concretezza, che aspetta e forse siete troppo buoni da farvi zerbino. Questo è un uomo che potrebbe anche approfittarsi di voi. Sappiate che voi valete energicamente molto di più e anche come anima. Quindi attente e attenti a non cadere nella trappola, nel gioco dell'altra persona, che potrebbe essere un segno d'aria, un segno molto scaltro. Se non è un segno d'aria, io vedo un gemelli oppure vedo uno scorpione. Potremmo avere il capricorno, ma raramente vergine, gli altri non tanto. Comunque ho ascendenti e cose varie in questi segni. State attenti. Potrebbe anche scegliervi se gli convenisse, però potrebbe andar bene per voi. Qui c'è, vedete, questa è la carta che parla di intelligenza e ha sicuramente in relazione a questa stesura due letture. Qui abbiamo una persona scaltra ed è la persona che voi state aspettando, quella che dovrebbe prendere la decisione e che ancora non la prende. Abbiamo però una sorta di suggerimento di avviso. Rifletti, fermati, cerca le cose semplici, analizza. Questo è un avvertimento per voi. Lui farà i suoi calcoli e trarrà le sue conclusioni in questo rapporto sicuramente mosso da una convenienza. Anche il fatto di volere più bene a voi che al partner ufficiale già ha un ragionamento di convenienza. Cioè non è come nell'altra stesura, nell'altra variante prende il cavallo, fugge e viene da voi. Non prende il cavallo, non fugge. Questo va molto lentamente. Anzi, si fa tendere. Anzi, questo si vuol far desiderare. Poi fatemi sapere, perché questa è una variante molto molto particolare. Quindi io do il consiglio a voi e ancora non abbiamo capito cosa farà, vorrebbe anche rimanere titubante. Ma state attente, state attente, state attente e riflettete. Valutate sul fatto se non possiate voi meditare qualcosa di meglio. Vedete? Ecco. Ulteriore conferma, e questo credo sia un atteggiamento di tutta la sua vita, lui si trova a scegliere tra due cose. Sacro e profano, comodo e lo scomodo, destra e sinistra, ai piedi, in tutte e due le vie comunque. E sebbene debba scegliere, lui ha le mani con certe sul petto, stessa distanza, la decisione non l'ha presa e io credo proprio che non la prenderà. Anche questa carta mi conferma la mia percezione iniziale, che non ho esposto subito, perché ovviamente vorrebbe sembrare un azzardo, poi vorrei anche condizionare il vostro ascolto e non voglio. Voglio prima vedere cosa viene fuori dopo. Ma qui la scelta non c'è, per il momento non c'è e comunque anche il suo non scegliere, o se mai sceglierà, sarà un fatto di convenienza. Allora ribadisco, convenienza sotto tutti i punti di vista. Vediamo un po'. C'è la speranza da parte vostra, però è una carta di spade, è una speranza un pochino disillusa secondo me. E siete comunque, il punto è questo, nella prima variante la persona si era ormai scocciata di attendere in parte. Posso anche conservare il sentimento d'amore, però decidi, se no io posso riprendere la mia vita anche meglio di prima. Nella seconda c'era proprio la calma e la sicurezza che lui sarebbe arrivato, qui c'è una sorta di disperata, sofferenza, nella speranza. Cioè voi purtroppo davanti questa personalità, secondo me anche un po' da narcisista, vi siete annullati troppo. E forse vi state anche ponendo il problema che se lui non sceglie è perché voi non siete abbastanza per lui. Ecco, cancellate dalla vostra mente questo pensiero. È un gioco della mente, è falso, è ciò che lui vuole voi crediate. Non è così, assolutamente. Andiamo avanti. È una persona molto abile, questo è un manipolatore, è venuto fuori anche il mago, guardate un po'. Qui abbiamo la persona che sa parlare bene, sa costruire bene i contesti, sa costruire bene le giustificazioni, anzi questa persona è talmente abile che se le studia talmente con tempo le situazioni, che è in grado di far succedere le cose come le ha pensate per non dover dire io ho fatto questo, ma io mi sono ritrovato in questa situazione. Cioè, capito? Quindi state attenti perché questo ha tutte, e mi si conferma secondo me anche lo scorpione, tutte le capacità per riuscire a raggirare tutti voi, il partner, il contesto, la situazione, questo non sceglierà mai e non lo potrete costringere a scegliere. Questo rimarrà sempre nell'ambito della possibilità di poter cogliere del buono da tutti. Lui vuole che tutte le relazioni possano fruttare a lui qualcosa. È un gran figlio ed è una buona donna, come si dice a Roma. Facendo salva la madre, di solito aggiungono. Però questo gli sta per arrivare una bella lezione karmica, secondo me. Nella vita di questa persona sta per arrivare qualche grande sola, ma neanche sola, qualche cosa andrà contro la sua volontà, non andrà come lui ha progettato e vedrete che sarà costretto a dover modificare i suoi atteggiamenti. Non so se con voi o senza di voi, ma questa è una persona che la vita porrà dinanzi e ha delle lezioni toste perché deve cambiare carattere, cioè deve cambiare atteggiamento più che carattere. Questa è una persona che secondo me anche nelle amicizie sceglie in base alla convenienza. è infatti la giustizia che arriva, guardate qua, arriva il giudizio e l'abbiamo girata adesso. Ma le carte veramente, io non so se siete avvezzi a le fate, però è come se anche toccandole, questa è una mia sensazione, poi mi potranno anche criticare e prendere in giro. ti suggeriscono l'orientamento del loro discorso. Qui per questa persona sta per arrivare una situazione molto difficile. Lo sapete cosa vorrebbe accadere? Che voi tirerete fuori la forza e vi emanciperete, che la moglie, il partenere ufficiale lo manderà a quel paese e si troverà in mezzo a una strada, non tanto economicamente, ma perché non avrà più nessuno da sottomettere. E queste sono quelle persone che se non hanno, cioè sapete, la dinamica del sadismo e del masochismo. Ecco, qui abbiamo un sadico, per capirci, che a modo suo però è anche un sadomasova, che vuole anche la sua dose di dolore. Però quel dolore che può diventare poi una sua forma di lamentela per essere di nuovo accolto e per avere le scuse di colui che gli ha inflitto dolore. Non cadete in questa dinamica, voi valete molto di più di questa persona e dei suoi meccanismi. Eccoci qua. Abbiamo il Papa, abbiamo la moralità, l'insegnamento, la conoscenza. Questa è la via verso la quale bisogna andare a portare questa relazione. Innanzitutto, probabilmente, in questo caso il Papa non è assolutamente lui, sarei molto più Papa energeticamente voi di lui. Ma questa carta è la carta del sarà evidente tutto, nulla sarà più nascosto, tutto sarà conosciuto. Io credo che i suoi strani giochi, tutte le sue strane dinamiche salteranno e sarà quello il grande suo problema, cioè tutto quello che ha saputo nascondere, celare, ingarbugliare in questo periodo della sua vita, o anche da sempre nella sua vita, verrà finalmente scoperto, si troverà dinanzi tutto e dovrà dare spiegazioni e lui non è in grado di fare questo. Sarà smascherato. Io ve lo confermo, lui la scelta non la prende, non la prende, la situazione ha questa lettura, ci ha permesso di evidenziare i meccanismi che lui mette in atto per condizionare voi e tutti gli altri e sappiamo già che probabilmente avrà molto presto una situazione karmica per cui dovrà cambiare rotta, dovrà cambiare atteggiamento, si ritroverà solo e lì dovrà affrontare quella che è una lezione karmica per lui. Io vi auguro veramente e mi permetto con tutto rispetto per i sentimenti che nutrite per questa persona, io mi auguro che voi vi fermiate un attimo a riflettere e quei sentimenti li proiettiate su di voi. In questo momento da questa stesura quello che traspare è che voi dovete abbracciare voi stessi, amare voi stessi. Questo ve lo chiedo proprio come favore personale, non l'ho mai fatto nelle altre letture ma qui lo sento forte. E questa è la terza stesura, scusatemi il tono diverso dal solito, non che io sia una grande persona che parli così a voce alta. Vi ringrazio, grazie per seguirmi e un abbraccio, buonanotte e al prossimo interattivo. Ciao!